Allora, signori miei, oggi fa una brutta fine questa astice perché adesso io lo bollirò. Ma sta registrando, sì. Certo che sta registrando. Praticamente questa astice ce la cuciniamo stasera. Mi dispiace che, oh, guarda, ha male in cuore, glielo sto mettendo dentro la pentola, guarda. Guardate, va dentro la pentola. La schienetta non vuole entrare, ma si è giudicata. Mi prende la pentola. E qui dentro, ma verino.